Da poche ore il bilancio del Comune di Pescara è in realtà un bilancio approvato prima del 31 dicembre, questa è già una bella notizia. Sì, è per la seconda volta che il Comune di Pescara, targata Carlo Masci, approva il bilancio entro i termini di legge senza dover ricorre all'esercizio provvisorio, dando uno strumento certo per amministrare la città. È stato molto difficile perché è iniziato il percorso di costruzione già da agosto nel 2020, dove c'era uno scenario totalmente diverso di discesa della pandemia. Adesso purtroppo c'è stata un'impennata di contagio, attualmente è un po' di stasi, quindi un panorama mutevole. Con tante difficoltà finanziare dovuto appunto alla pandemia siamo riusciti a chiudere i conti, a fare il quadrare i conti per la seconda volta. Dato oggettivo è che i 20 voti a favore della maggioranza vanno a mettere da parte quelle che erano state un po' di chiacchiere, anche pompate, fanno il loro lavoro le opposizioni per dire che eravamo divisi. Invece questi 20 voti mettono a tacere questo e danno un segnale unico che è quello dell'interesse del territorio di Pescara e dei pescaresi. Nonostante i diversi giorni che il Consiglio Comunale si è dibattuto sul DUP e poi sul bilancio, si è raggiunto un'intesa per migliorare quella che è la proposta di bilancio, perché ricordiamo che la Giunta propone un bilancio e poi è prerogativa del Consiglio dell'approvazione attraverso l'espressione del voto, che è stato ovviamente contrario dell'opposizione, ma abbiamo accolto alcune loro istanze per poter creare quello che è un clima distintivo e di massima condivisione possibile, visti i tempi, con tutti i consiglieri che rappresentano ovviamente il territorio comunale. Sicuramente abbiamo fatto un bilancio in condizioni che tendono alla normalità, però con la variazione di bilancio che eventualmente fosse necessaria abbiamo lo strumento per intervire immediatamente. I punti essenziali sono quelli del decoro, il verde con 1.300.000 euro, ovviamente teniamo a che sia una città ordinata. Abbiamo stanziato 50.000 euro per la bandiera blu, perché uno dei punti cardini dell'amministrazione comunale è far diventare Pescara bandiera blu per valorizzare il nostro patrimonio, la nostra risorsa principale, la nostra industria principale di città, che è quella della costa. Abbiamo stanziato altri stanziamenti di bilancio, quali il Festival d'Annunziano, come lo scorso anno, perché riteniamo che attraverso anche la cultura, seppur ovviamente diciamo mediamente ridotto lo stanziamento, rappresentano un brand pescarese che deve essere assolutamente valorizzato. Ci aspettiamo dal Governo durante questo primo semestre dell'anno che arrivino nuove risorse finanziarie, che liberino quindi risorse proprie del Comune da destinare a quelle che oggi sono state le distanziamenti ridotte rispetto a quelle che erano le aspettative, ma sicuramente siamo positivi per quelli che sono gli sviluppi sia della pandemia che della situazione economica difficile, ma alla quale non abbiamo sicuramente lasciato nulla al caso in questo anno e l'abbiamo dimostrato governando i conti, chiudendo un bilancio nei tempi utili.